L'Ungheria decide di esportare alla sua eccellenza il termalismo terapeutico e sceglie Castellammare del Golfo per il progetto pilota. Dopo un anno di contatti tra l'amministrazione comunale castellammarese ed il Consolato d'Ungheria, per una collaborazione che mira a far decollare un progetto di utilizzo delle acque termali a Castellammare, in un incontro nella sede del Consolato a Milano i Maggiari hanno già avviato e praticamente concretizzato la collaborazione. Nella sede del Consolato l'assessore castellammarese Antonino Marchese, in rappresentanza dell'amministrazione, ha discusso con il Sottosegratario per l'Economia, il Consol generale, il Sindaco di Eiviz dove si trova un lago termale ed i professionisti ungheresi presenti in rappresentanza della loro eccellenza nel campo del termalismo, vale a dire un architetto per la progettazione, l'impiantistica, esperti per la competenza termale medica e reabilitativa e il Consol onorario d'Ungheria Genova. Hanno dato il loro assenza a collaborare, affermano il Sindaco Nicolo Coppola e l'assessore Antonio Marchese. Il Sottosegratario ha fatto presente che il Governo supporta questo progetto, il primo mai realizzato e per questo motivo ha convocato a Milano le eccellenze ungheresi del ramo. Tre giorni dopo l'incontro a Milano, il 6 maggio, l'Ungheria ha invitato ufficialmente una nostra delegazione a visitare le loro strutture ed in particolare quella sul lago Eiviz e ci ha già fatto presente l'invio di una checklist riguardante le nostre acque sulfuree per orientare l'intervento. La collaborazione è nata all'Expo di Milano dove il Sindaco Coppola è stato ospite nel padiglione Ungheria per la presentazione delle industrie della salute ungherese. In quell'occasione abbiamo partecipato a degli incontri con il Consolo Ungherese al quale abbiamo illustrato il nostro progetto riguardante il turismo della salute coniugando ricchezze naturali e acque termali allo scopo di predisporre un percorso comune con l'Ungheria proseguono il Sindaco Nicolo Coppola e Marchese. Da lì l'invito a Milano e adesso l'avvio della preziosa attività comune per mantenere la struttura termale da realizzare a Castellammare con uno standard ed efficienza costante nel tempo abbiamo precisato che la nostra proposta è una richiesta d'esportazione della loro eccellenza e non una semplice collaborazione. Il risultato finale è frutto di un'attente e dettagliata progettualità che ha visto il governo e gli esperti ungheresi entusiasti della presentazione delle bellezze del territorio castellammarese, della vocazione turistica e delle tante possibilità che la città del Trapanese offre.